ciao allora video velocissimo per mostrarvi dei cabochon che ho realizzato con la resina della pebeo e lo stampo della pebeo che ho preso dal sito di creando con azzurra sotto vi metto il link allora ho sperimentato pochino nel senso che quello che vi mostro sono solo alcuni cabochon che mi sono rimasti alcuni li ho regalati e ne farò ancora in settimana e niente poi magari in un altro video vi farò vedere cosa realizzo diciamo che sono abbastanza soddisfatta essendo i primi lavori alcuni mi erano venuti un po mollicci e quindi vabbè li ho buttati quindi li ho scartati e li ho incestinati mentre altri mi sono venuti carini insomma io ho mischiato la resina con i colori della pebeo come azzurra mostra nei suoi video e poi sono andata veramente a fantasia ho messo lo smalto ho messo brillantini foglie color rame delle paillettes insomma ne ho fatti veramente di tutti i tipi di tutti i modelli purtroppo li ho alcuni regalati per lo swap alcuni è venuta gentilmente una mia amica me li ha fregati e questi sono quelli che mi sono rimasti ma ne farò molti altri e vi mostrerò poi cosa mi uscirà ecco da quegli esperimenti perché ho un po' di idee in testa e niente adesso aspetto che mi guarisce la mano che mi sono fatta male e anche perché non posso mettere i guanti di lattice e poi mi metto subito all'opera allora ve li mostro proprio una cosa velocissima questi sono tutti i cabochon aspettate che vedo se spengo a luce forse le vedete meglio sì insomma qua sta per venire un temporale quindi insomma prendiamoci l'unica l'unici raggi di sole che c'è in questo momento e va bene così allora aspettate che si accendo forse ma si lasciamo così allora come al solito a me piacciono le cose che si notano le cose importanti infatti come vedete ho fatto dei cabochon con la resina e con i brillantini questi sono tutti brillantini ma è veramente pieno il cabochon questo è blu e non è viola quindi vabbè diciamo che non rispecchia proprio il colore perché è un po' più acceso bellissimo insomma a me piace un sacco questo colore qua e li ho caricati li ho caricati tanto 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 perché a me le cose piacciono che si vedano e poi li ho preparati così piccolini anche questo qua fatto solo con i brillantini sembra che è pieno neanche si vede il trasparente della resina però è quello che a me piace è questo qua quindi con i brillantini questa è una rosa sempre piena zeppa di brillantini e non ho usato colore è solo brillantini forse questi qui sono quelli per gli occhi boh non lo so guardate ho raccattato di tutto per fare questi cabochon poi invece questi qui è un cabochon che ho fatto con i colori della Pebeo vedete ho usato l'oro e l'azzurro e mischiandole vengono queste venature che colando nel momento giusto creano questo effetto sul cabochon ma veramente ve le faccio vedere questo qua con la foglia color rame purtroppo non ho ancora comprato né quella oro né quella argento però è veramente bella la foglia brillantini Pebeo Pebeo alcuni colori poi mi sono usciti così mischiando ad esempio questo qua forse con boh mischiano due o tre volte veramente ho fatto di quei pasticci però il risultato mi piace questo qua un po' più trasparente questo azzurro con dei brillantini questo qua invece l'ho fatto bianco e poi ci ho messo dietro lo smalto idem questo qua di questo colore qua poi voglio fare anche le inclusioni veramente ho in testa tantissime tantissime cose che quando rientro dalla mia vacanza mi metterò all'opera magari già questa settimana riesco adesso dipende un po' dagli impegni questo pieno zeppo di brillantini questo che mi sembra un cappuccino perché è pieno di brillantini davanti e color crema dietro veramente carino questo qua sempre pieno solo di brillantini non è colore è proprio trasparente e pieno di brillanti rosso anche questo qua guardate che bello con le sfumature infatti solo con i colori della Pebeo questo qua dietro invece ci ho messo l'ho fatto trasparente una curata trasparente dietro ci ho messo i colori della Pebeo insomma anche questo qua guardate varie venature questo qua che è anche secondo me è proprio bellissimo è viola voi lo vedete beh è sfasato rispetto al colore che è realmente con tutte le sfumature oro bello e questo cuoricino con tutti i cuoricini in superficie e i brillantini arancioni insomma questi sono proprio i miei esperimenti sono i primi a me piacciono veramente tanto e niente poi in settimana ne farò diversi anche perché devo fare alcune sorpresine e quindi niente insomma diciamo che mi metterò all'opera e niente insomma qua bisogna sbizzarrirsi con la fantasia perché vabbè la forma è quella che è nel senso che lo stampo lo possiamo trovare tutti poi la diversità tra un cabosciano e l'altra la facciamo noi fra la nostra fantasia il bello è proprio questo secondo me che ad ognuno escono dei cabosciano diversi rispetto magari quelli visti quelli che che si vogliono magari realizzare perché poi ognuno ci mette del suo e quindi insomma questo è il bello altra cosa velocissima vi mostro velocemente appunto con i miei cabosciano che ho realizzato cosa ho creato ho già fatto orca miseriaccia ok ho già fatto un cabosciano mio e l'ho incastonato quindi questo è il cabosciano ovviamente qua non rende perché il mio non è blu ma è un viola un po' più un viola lilla diciamo un po' più acceso qua rimane molto più scuro e queste venature oro che ho realizzato appunto nella colata ho realizzato poi questa incastonatura qua con le embroidery è una tecnica che sto sperimentando sto imparando sempre di più e niente poi ci ho messo per ora una semplice cartina color oro e niente poi starò a vedere se la lascio così oppure no quindi vabbè questi sono proprio i miei esperimenti volevo appunto farvi vedere un cabosciano come l'ho lavorato come si può lavorare e niente spero che vi piacciono aspetto i vostri pareri i vostri consigli perché ripeto non sono assolutamente un'esperta accetto qualsiasi cosa vogliate dirmi e niente vi mando un bacio al prossimo video ciao 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 ciao